Non ho pensato molto nel modulo, sappiamo che possono giocare con una difesa 3-5 o 3-4, è una squadra forte, di qualità e noi lo che dobbiamo fare è il nostro lavoro con la nostra idea. Se loro fanno una cosa diversa proviamo ad aggiustare un po', ma la cosa più importante è lo che noi possiamo fare e vogliamo fare.